Dopo il suo insediamento si è tenuto questa mattina la prima riunione della commissione d'inchiesta sul sito inquinato di Bussi. In programma c'erano le audizioni del sindaco Salvatore Lagatta e del direttore dell'Arta Francesco Chiavaroli. Al termine della seduta il presidente della commissione Giovanni Legnini ha commentato le prime audizioni. La bonifica non ancora viene avviata, che la reindustrializzazione è stata solo parzialmente avviata, che sul diritto alla salute dei cittadini, dell'intera area del SIN, non solo del SIN, bisogna fare molto di più, che quindi bisogna rimuovere ogni ostacolo per avviare la bonifica, reindustrializzare il sito, assumere iniziative, espletare attività per garantire il diritto alla salute delle persone. La commissione vuole accertare ciò che difetta, ciò che non è stato fatto e ciò che c'è da fare e chi lo deve fare, perché vi è un eccesso di confusione su tutto ciò che è accaduto in questi anni. Lo stesso Legnini ha delineato gli obiettivi della commissione ricordando che tra i suoi compiti vi è l'accertamento di eventuali responsabilità sui ritardi della bonifica del sito. Innanzitutto dicendolo, scrivendolo, affermandolo e ponendo ciascuno dei responsabili delle attività, ciascuno dei titolari delle funzioni di fronte alle responsabilità che devono assumere, evitando uno scaricabarile al quale noi abbiamo assistito in questi anni. Una bonifica che resta al centro dei pensieri anche del sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta. Noi oggi abbiamo fatto un, penso, proficuo lavoro insieme alla commissione regionale e spero, spero, lo ripeto e lo sottolineo, che l'obiettivo di tutti sia quello di arrivare al più presto a bonificare quelle aree e non piuttosto a fare strumentalizzazioni politiche.